salve amici e amiche eccomi oggi con gli aggiornamenti dal fronte per quello che ormai diventato il terzo giorno dell'offensiva ucraina nell'oblast di kursk ho tenuto d'occhio la situazione e ho cercato di raccogliere quanti più dati possibile in queste ore ma tengo a precisare che le notizie si stanno accavallando molto rapidamente ed è molto difficile per ora fare stime precise e quindi dovremmo basarci essenzialmente sulle poche info che arrivano da parte ucraina che da tre giorni per ovvie ragioni e in silenzio pubblica poco e niente mentre la maggior parte dei video e dei comunicati stampa arrivano dai residenti della regione e dagli organi gli organi di stampa russa per questo motivo sottolineo che le informazioni che abbiamo vanno prese con le pinze e bisogna andarci molto cauti soprattutto perché nessuno può prevedere con certezza quali saranno gli sviluppi futuri se gli ucraini riusciranno a mettere le mani definitivamente su questa regione a tenervi una testa di ponte o creare un nuovo fronte o decideranno di ritirarsi ora al contrario di quello che ho potuto vedere nei pochi canali filorussi nostrani in tutto il mondo tutti stanno parlando di questo attacco ucraino nella regione di kursk come qualcosa di straordinario che ha letteralmente fatto a pezzi decenni di propaganda del regime russo in cui putin ha continuamente ostentato di avere la nazione più potente del mondo potere militare economico e strategico a non finire i motivi per questa avanzata ucraina in territorio russo sono tattici ovviamente come è stato detto anche dai loro portavoce i portavoce i portavoce del governo ucraino stesso servono di base a costringere l'esercito russo a mobilitarsi spostandosi così da alleggerire la pressione da altre zone più calde del fronte della loro guerra di invasione in ucraina in questo modo le truppe ucraine potranno organizzarsi meglio e eventualmente contraattaccare in quelle regioni che come devo dire sono in stallo da due anni e mezzo quindi possiamo dire sicuramente per quello che abbiamo visto in questi due giorni che il piano ucraino è perfettamente riuscito e lo vedremo fra poco ma allo stesso tempo non possiamo non notare l'enorme impatto politico e mediatico che questa incursione ha avuto minando le fondamenta delle convinzioni russe più radicate per cui nessuno avrebbe mai più invaso il suolo russo dopo l'operazione barbarossa della germania del 1941 e questo signori miei non è un dettaglio da poco questa azione insomma da parte ucraina è stato un vero smacco per putin voglio dire no quindi oggi vedremo cosa è successo nella notte e fino a che punto gli ucraini sono penetrati in territorio russo quali sono state le reazioni dei civili russi nella regione quali sono state le reazioni delle forze armate russe e dei media russi e non solo dovremo parlare anche di un attacco ad un aeroporto russo da parte dei droni ucraini e di un attacco da parte russa ad un supermercato che è costato la vita ad almeno quattro persone quindi iniziamo mentre vi introducevo gli argomenti vi ho mostrato alcune mappe aggiornate sulla situazione aggiornate sempre fa virgolette chiaramente non sono mappe precise ma possiamo dedurre queste posizioni per esempio da alcune foto che sono arrivate da parte dei soldati ucraini o dai video dei civili che riprendevano con il cellulare in cui si vedono per esempio come vi sto mostrando i carri armati e i mezzi blindati ucraini correre lungo le strade in quest'ultima pagina che vi mostro andrew perpetua blogger che segue molto attentamente il conflitto parla di questa mappa dicendo che è molto conservativa abbiamo anche alcuni video e foto di soldati ucraini alle prese durante il primo giorno alle prese con quelli che sono dei cambi di bandiera dove appunto si vedono sostituire le bandiere sui municipi con tanto di cerimonia solenne e poi queste altre due foto passate da nexta tv dove si vedono soldati ucraini fare selfie turistici presso Novolavimka che è a 20 km a nord ovest di Suska la città da cui è iniziato tutto e dal suo checkpoint e poi Liubimovka che è a più di 80 km dal confine ucraino 80 vi mostro questi due villaggi sulla mappa così per darvi un'idea di fin dove si sono spinti questi soldati come ho già riportato nei due video precedenti dopo il primo momento di invasione con dozzine di soldati russi che si sono dati alla fuga arresi la prima risposta da parte di mosca è stata quella di inviare una colonna di emergenza verso Suska ma questa come sappiamo è stata distrutta ci sono le immagini con i loro carri armati che sono ancora sui rimorchi che li trasportavano ormai ridotti a delle dai rottami e questo è successo il primo giorno durante la notte un'altra colonna russa ha cercato di raggiungere la regione colonna composta per lo più da camion e automobili o come devo dire piccoli camioncini pieni di soldati vi mostro queste immagini per quelle che vi posso mostrare perché alcune sono troppo crude e youtube non lo permette però insomma il risultato è questo e la colonna è stata distrutta nel giro di pochi minuti ci sono molte immagini della devastazione di questi mezzi leggeri pieni di uomini che ovviamente come dicevo non vi posso mostrare ma gli effetti che vi posso riportare sui corpi e i mezzi sono chiaramente quelli di bombe a frammentazione quindi questo tipo di ordigno può essere lanciato o dall'aviazione o dall'artiglieria a riguardo dato che in molti mi avete chiesto se l'ucraina sta usando gli f16 in questa operazione offensiva nella regione di kursk non posso darmi una risposta certa diciamo penso di no però posso dirvi che c'è in questo post che sicuramente tanto posso dirvi che l'f16 è certamente in grado di distruggere un'intera colonna abbastanza facilmente perché ha delle bombe a frammentazione o dei semplici razzi ma questo può farlo anche un normalissimo su 25 non serve un f16 però insomma può essere stato anche tranquillamente il lavoro dell'artiglieria o dei droni voglio dire no non posso confermare niente a riguardo però per esempio il canale ps 01 in questo proprio video afferma che gli f16 in realtà non stanno operando in questo in questo momento sopra a kursk sopra la regione di kursk stanno invece venendo usati per volare sopra a sud nella regione occupata di kursk in questo momento quindi qui ve lo mostro sulla mappa quindi al confine con la zona occupata e con la crimea e questo se devo essere onesto per come la vedo io è perfettamente compatibile con il lavoro fatto in questi mesi dagli ucraini contro gli scudi missilistici in crimea così i 16 avranno campo libero e potranno supportare al meglio le difese aeree ucraine in tutta l'area sud non voglio sbilanciarmi ma questo potrebbe essere il preludio di qualcosa che si sta muovendo verso sud verso la crimea quindi vedremo nei prossimi giorni ora per tornare e concludere invece il discorso sulla invasione della regione di kursk circolano numerosi video da parte della televisione russa in cui si vedono altre colonne in movimento e giustamente qualcuno nei commenti ha scritto non c'è il migliore alleato di un nemico idiota perché diciamolo no mostrare in diretta il movimento di una colonna con l'esatta posizione da un punto di vista strategico non è proprio una grande idea certamente magari farà bene al morale dei vecchietti russi che guardano la televisione a mosca che si bevono tutta la propaganda ma come dire no non si fa quando hai il nemico in casa non mostri le colonne in televisione quindi gli ucraini ringraziano e giustamente jesus smart ripropone lo stesso video da parte della televisione russa dicendo non avendo imparato niente dall'ucraina che ha distrutto la sua massiccia colonna di veicoli militari la notte scorsa la russia ora sta inviando una nuova colonna a kursk restate sintonizzati perché stasera ci saranno altri fuochi d'artificio un altro blogger dice sì per favore continuate a pubblicizzare e a pubblicare video che possono facilmente essere geolocalizzati quindi qualcosa mi dice che la notte sarà movimentata nella regione di kursk è come dire queste colonne in movimento sono esattamente quello che voleva ottenere l'ucraina nel frattempo infatti arrivano altri video che poi mostrano l'esodo di civili con colonne chilometriche qui siamo per esempio a 30 chilometri dai villaggi occupati dagli ucraini secondo il canale z di fronte russa e questo dimostra che la regione in subuglio con un esodo di civili e poi ci sono anche civili che si lamentano della situazione in televisione è come dire per esempio questa signora ci offre uno spettacolo più gold per dirla in inglese la signora piange e dice dov'è il nostro governo putin putin per favore aiutaci e quindi a parte la signora giudicherete voi gli altri dietro di lei sembrano piuttosto composti e stanno soprattutto bene possiamo dire quindi no lascio a voi le conclusioni in questo altro video per citare il trafiletto i russi a susca sono perplessi dopo il tradimento di putin hanno accettato l'accordo di putin che garantiva loro un minimo di stabilità fintanto che sostenevano la guerra però ora si ritrovano senza casa e i loro mezzi di sostentamento non ci sono più vale la pena di tradurre la loro portavoce per voi che dice caro vladimir vladimirovich siamo i residenti della federazione russa della regione di kursk del distretto di susca ci stiamo ti stiamo contattando il 6 di due giorni fa tre giorni fa truppe straniere con equipaggiamenti nato sono entrati nella nostra terra in poche ore la nostra città è stata ridotta in macerie i nostri parenti i nostri mariti i vicini di casa stanno difendendo il don bass abbiamo perso la nostra terra abbiamo perso le nostre case siamo scappati dai proiettili correndo tra le rovine molti di noi sono senza documenti vorremmo contattarti così che tu possa aiutarci siamo stati lasciati soli noi supportiamo il nostro governo e l'esercito le forze armate e aiuteremo se è necessario ok poi la signora ha un magone e chiede le altre di continuare che piangono e dicono che sono preoccupati e che non riescono a dormire la notte che i bambini piangono e che non hanno connessione nei loro telefonini non hanno notizie dai loro cari e poi continuano a pregare putin di riavere la loro terra indietro poi cambiano un poco il registro e la signora dice la nostra amministrazione non funziona ma siamo abituati ai bombardamenti e voglio ringraziare il canale telegram per averci avvisati che c'erano bombardamenti che c'era pericolo e così ci siamo rifugiati nelle cantine insomma poi vanno avanti con altre amenità ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate ma è piuttosto chiaro per me che queste persone stanno piuttosto bene non hanno la minima idea di cos'è una guerra vera e di quanto sono state fortunate che queste lamentele sono piuttosto ridicole nel loro egoismo quando a meno di cinque chilometri da loro c'è il confine di una nazione che è stata devastata per oltre due anni e mezzo dai bombardamenti con intere aree urbane che sono veramente ridotte in macerie ma andiamo avanti in questi giorni c'è stata una vera e propria diffusione un'esplosione di meme davvero preziosi signori miei voglio dire qui non si tratta di essere pro ucraina o filorussi ma di riconoscere che per la prima volta nella storia una nazione che ha invaso vigliacchamente un'altra nazione ha avuto il bel servito e abbiamo visto tutti tutto il mondo ha visto la faccia di putin a queste notizie insomma parla da sola no voglio dire io lo ripeto non ho niente contro il popolo lusso credo anche che meriti di meglio di un oligarchia di fanatici guerra fondai o una dittatura che dir si voglia e chissà magari che questo momento storico che stiamo vivendo è solo il preludio di un cambiamento nella loro società che è che cambi in qualcosa di meglio lo spero vivamente come dicevo le meme sono straordinarie in questi giorni l'ironia delle persone a seguito di questo smacco sono state tante e voglio giustamente mostrarvene qualcuna e c'è questa che mi ha fatto morire in cui appunto un giornalista chiede a zeleschi cosa sta succedendo a kursk e lui dice non lo so e poi ne avrete sentito parlare c'è il discorso di putin alla nazione che è un meme di suo voglio dire promette 120 euro a tutti gli sfollati e promette che si prenderà cura di loro in qualche modo già oppure questa meme che ha mille variazioni sullo stesso tema no che kiev sarebbe caduta in tre giorni bla 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 ok e che mi ricorda un poco certi commenti che ho ricevuto anch'io qui sul mio canale e che dicevano e ma la russia se vuole vince la guerra in due giorni che sta con le mani legate eccetera eccetera insomma è un fatto che dobbiamo riconoscere che in tre giorni gli ucraini si sono presi fino a 40 chilometri 50 chilometri quadrati di territorio russo mentre nelle nelle zone più calde del conflitto i russi escono avanzano di un chilometro al giorno nelle nei punti nei giorni migliori e poi insomma c'è la televisione russa che è un meme di suo voglio dire non ha bisogno di vignette o commenti o altro perché voglio dire a confronto quando c'era emilio fede su rete 4 tipo era il tempio del giornalismo ecco in questo in questo post dice il portavoce del ministro degli esteri chiama la comunità internazionale per condannare fermamente l'attacco criminale del regime di chieva e sui territori russi giustamente il primo commento è dovreste provare a fare appello all'onu per questa situazione e poi le dichiarazioni spontanee dei cittadini russi quando per esempio accidentalmente dicono le cose come stanno e c'è questa signora veramente col dente avvelenato questa signora dice che gli ucraini non hanno sparato a nessuno non hanno distrutto le case dice che quelli in televisione mentono bugie su bugie quei maledetti mentono nessuno ci ha salvato le persone si salvano da sole qui quei maledetti al governo mentono e si appuntano le medaglie sul petto e sulle spalle mentre noi siamo abbandonati e nessuno ci salva loro mentono e poi per concludere sempre con i meme ecco a voi il momento della verità fra gherasimov e putin e che gli chiede la finestra o il tè e gherasimov risponde ma io veramente vorrei andarmene come prigozin ha fatto se ve lo ricordate quindi con un aeroplano che fu colpito da un missile e putin risponde non possiamo perché non abbiamo più aeroplani e missili per farlo ora oltre a questi fatti che vi ho raccontato questa notte c'è stato un massiccio attacco dronico presso l'aeroporto di lipsep credo si pronunci così aeroporto militare forti esplosioni sono state sentite fino in città e il report parlano di un altro deposito munizioni pesantemente colpito la cosa più interessante cercando google maps è che su questo aeroporto si vedevano schierati fino a pochi giorni fa o mesi per quello che sappiamo dato che queste immagini satellitari sono del 2024 ma non sappiamo quando c'erano numerosi su 24 su 34 è praticamente l'intera flotta di su 57 russa che sono i più moderni caccia russi in circolazione quindi dovremo aspettare le prossime ore per avere immagini satellitari più accurate dei danni inflitti a questo aeroporto che vi mostro meglio sulla mappa ma è quasi a 400 chilometri dal confrine ucraino 400 chilometri e cioè quindi sempre per quanto riguarda gli ultimi aggiornamenti oggi pomeriggio sembrano esserci state esplosioni nella città di meritopol nell'area occupata a sud il trafiletto parla di panico in città ma non dice altro quindi dovremmo aspettare ulteriori sviluppi mentre la peggiore notizia del giorno arriva dalla regione del donesk presso costantivica non giudicatemi male per la pronuncia questa città si trova a sette chilometri da chassi via dove le truppe ucraine russe sono in stallo da mesi degli effetti di questo attacco circolano diversi video e giustamente qualcuno fa notare che lanciare missili su supermercati affollati il venerdì pomeriggio non è proprio quello che si dice un obiettivo militare della stessa opinione è jason smart che fa presente come da mesi l'ucraina non fa altro che distruggere un obiettivo militare dietro l'altro in risposta alla russia bombarda tutti quegli edifici che per definizione rientrano nei crimini di guerra per concludere il sito e la mappa di deep state finalmente sono state aggiornate dopo qualche giorno di fermo non si sa perché ci mostra comunque due cose importanti i progressi di questi due giorni delle brigate ucraine che hanno invaso la regione russa di kursk vengono mostrate sulla mappa deep state curioso notare come vengono classificati come liberati vi mostro sulla mappa è un'altra cosa interessante è l'arresto delle operazioni dell'avanzata russa nella zona di novo rivca lì dove stavano avanzando più velocemente giorno per giorno e parliamo di circa un chilometro al giorno ma ecco la strana coincidenza è che questa avanzata si è interrotta proprio due giorni fa sarà il caso se così fosse conferma l'enorme successo strategico dell'invasione dell'oblast di kursk quindi tutto lascia presupporre che ne vedremo delle belle nei prossimi giorni e restate sintonizzati come sempre cari amici vi invito a iscrivervi al canale e lasciare un mi piace qui sotto trovate tutte le funzioni di youtube per supportarmi in questa iniziativa e niente come sempre un abbraccio alla prossima